L'assordante silenzio imposto alla musica dalla pandemia è finito anche per la camerata strumentale Città di Prato, che torna a esibirsi dal vivo al Politeama. Questo ritrovato piacere e gioia della scondivisione della musica insieme, in teatro, tutti quanti, vuol dire appunto guardare avanti, rimettersi in cammino, proprio come Orfeo, per uscire da quell'inferno. E la stagione riparte con i medesimi contenuti che aveva quella che abbiamo dovuto completamente sopprimere. La stagione inizia il 21 ottobre, si concluderà il 5 maggio. In programma anche un concerto nella chiesa di San Francesco. Quindi con i concerti per pianoforte orchestra di Beethoven, interpretati tutti e cinque da Pietro De Maria in due serate, con l'Orfeo di Gluck in forma di concerto alla fine della stagione, con un importante concerto dedicato alla musica di Bach, alla musica spirituale di Bach nella chiesa di San Francesco, con importanti solisti e con soprattutto la nostra orchestra schierata di nuovo al Politeama. Sarà un'anteprima, pezzo di Beethoven estratto dal quartetto della Maggiore Opera 132. Riprendono i concerti, ma anche le attività con le scuole. È molto importante quest'anno la novità che al progetto partecipa anche l'Università di Firenze, in particolare i corsi di storia della musica che sono tenuti al PIN qui a Prato, dal professor Marco Mangani.